Il senatore Andrea Marcucci, patron del rally del ciocco, nonché padrone di casa, facciamo un attimo il punto su quello che è il rally del ciocco a livello anche di promozione, soprattutto di promozione del territorio. Una gara che è arrivata alla sua 34esima edizione ha portato la bandiera della Garfagnana, si può dire tranquillamente, in giro per tutto il mondo. Sì, noi abbiamo sempre creduto nel mondo dei motori come veicolo di promozione per il territorio. Siamo molto contenti per il cinquantesimo anniversario del campionato italiano, che poi è nello stesso mese delle celebrazioni per il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, di poter ospitare nuovamente il campionato italiano perché riteniamo che sia un gran veicolo di promozione per il nostro territorio, che è meraviglioso per la nostra valle, per la nostra struttura turistico-ricettiva e quindi abbiamo sempre di più voluto coinvolgere i comuni. La partenza, l'arrivo, non sono più al ciocco, sono a Barga, sono al Castelnuovo. Le prove speciali fanno conoscere tutto il nostro territorio. È una grande opportunità, ci crediamo molto, continuiamo a crederci molto e lo continueremo a fare in il futuro.